Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, buon martedì 29 dicembre. Iniziamo subito con la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro. Iniziamo da quella di Pescara, titolo di apertura dedicato all'emergenza smog, targhe alterne al via dal 7 di gennaio a Pescara rientra a scuola con la nuova misura anti-smog in tutta la città. E poi vedete a centropagina la fotonotizia arrestati due piromani dell'incendio davanti alla sede della RAI sempre a Pescara. L'estate scorsa avevano aggredito i passanti sulla riviera. Andiamo a leggere anche la didascalia. Sono stati arrestati per incendio doloso i due giovani ritenuti responsabili del rogo in via di Amicis davanti alla sede della RAI. Sono Viorel Serban nel tondo a sinistra ed Edgar Flacco nel tondo a destra rispettivamente di 19 e 21 anni già conosciuti dalle forze dell'ordine per aver aggredito i passanti sulla riviera. Sono finiti in carcere ed oggi saranno interrogati. Andiamo a vedere anche nelle cronache di spalla. Arrestato e rilasciato commerciante sorpreso con la cocaina. E poi Confcommercio, elite con Ardizi, Danelli vicino alle dimissioni. E poi nello sport l'anniversario Stadio Adriatico, 60 anni di grandi eventi. Scendiamo nel taglio basso. Il Buongiorno Abruzzo firmato da Domenico Ranieri. Cagnoline in ospedale per aiutare i bimbi. Questo il titolo dell'articolo. Saliamo adesso sotto la testata per vedere i richiami dal nazionale. Caos ad Arezzo. Assedio a Banche Truria. I risparmiatori gridano ladri, ladri. E poi Torino piange madre e figlia. Muoiono durante il parto. Si indaga per omicidio. Andiamo a vedere anche nello spazio dedicato alle idee, che il giornale chiama le idee. Metropoli distanti anni luce. L'articolo firmato da Vittorio Emiliani. E poi non è stato un bel anno. E il 2016 si chiede Ferdinando Camon. Adesso andiamo a vedere insieme la prossima prima pagina, che è quella dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Bollette dell'acqua stoppa gli aumenti. Questo è il titolo d'apertura. Chieti, il Consiglio Unito, ha votato l'emendamento dell'opposizione. Nelle cronache, convitto nazionale, scuola a rischio, ecco l'esposto dei genitori. E poi in Lanciano aveva 69 anni e tessa in lutto per il consigliere Staniscia. Ancora in Vasto, reflui nei terreni, dal comune stop di tre mesi per l'oleificio. Adesso andiamo a centro pagina. Ortona celebra la liberazione. Simonetta Iarnori, fisica teorica, conquista il premio 28 dicembre. Nella didascalia si legge emozionata quando sale sul palco del Teatro Tosti per ricevere il premio il 28 dicembre 2015. Laureata in fisica teorica e anche dirigente della Cassa Depositi e Prestiti. Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche gli studenti, che vedete nella fotografia, che si sono diplomati con il massimo dei voti. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro e delle sue prime pagine. Adesso passiamo all'edizione di Teramo. La Tercas difenderà il risparmio. Questa l'apertura. Parla l'amministratore delegato della banca Iacobini. Dice che saranno erogati i crediti per 300 milioni. Lo abbiamo ascoltato anche noi nel Tg della vigilia di Natale. L'amministratore delegato della banca Iacobini che ci ha proprio confermato l'impegno di Banca Popolare di Bari a sostegno del credito nella nostra regione e l'impegno all'interno di Tercas e Caripe. Andiamo avanti. Nelle cronache la direttiva europea. Negli ospedali mancano 300 operatori e poi sul lungomare in Giulianova bomba carta distrugge un parchimetro. Ancora in Roseto a 580 mila euro le ferrovie vendono l'arena Quattropalme. A centropagine invece il commercio. Delusi i commercianti terramani. Acquisti di Natale fiacchi. I consumatori aspettano i saldi. Si sono rivelati un fiasco gli acquisti di Natale per i commercianti terramani. Lo shopping si è concentrato in pochissime giornate. Sono stati venduti soprattutto articoli di costo contenuto. La maggior parte dei consumatori aspetta i saldi che inizieranno i primi di gennaio. Torniamo ancora ad un'altra prima pagina. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. Bearsi i miei 44 giorni in carcere. Questa l'apertura dedicata alla provincia aquilana. L'Aquila parla il preside condannato per i morti nel convitto. Nelle cronache a Trasacco nella pagina di Avezzano Marsica. Un carabiniere picchia il padre e finisce nei guai. A Sul Mona ordigno bellico abbandonato nei cassonetti e poi in Avezzano. Ospedale. Troppi malati ad oncologia. File per la chemio. A centro pagina l'Aquila in lutto. Addio al marchese Pica Alfieri. Aiutò gli onnesi dopo il sisma. Si è spento ieri all'età di 85 anni all'ospedale San Salvatore. Lascia la moglie Maria Clara Chiarizia e il figlio Fabrizio Junior maestro di musica lirica. Sono stati i propri Pica Alfieri dopo il terremoto a mettere a disposizione i terreni per realizzare il villaggio map che ospita l'intera comunità di Onna. Adesso cambiamo testata e ci spostiamo sul messaggero per andare a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Titolo di apertura ancora dedicato alle banche. Tercas è pronto il contrattacco. Fondo depositi vuole contrastare lo stop imposto all'Unione Europea. Dall'Unione Europea l'intervento ritenuto un aiuto di Stato verso il ricorso alla Corte di Giustizia. Intanto Iacobini annuncia che la banca si espande nel Chietino. E poi a Sulmona gli anticentrali occupano il Comune l'occupazione. Leggiamo che è scattata poco dopo mezzogiorno, dopo una lunga conferenza stampa nella quale si ribadivano le ragioni del no comunque e dopo uno scontro verbale dentro l'ufficio del Sindaco che si è difeso spiegando che non può essere lui il capro espiatorio. Che lui la centrale non la vuole ed è pronto a manifestare a Roma. I comitati cittadini per l'ambiente hanno così preso possesso di Palazzo San Francesco e qui resteranno a dormire e a vegliare finché il Sindaco e il Presidente della Regione non difenderanno la volontà delle popolazioni. Così hanno detto i manifestanti. Adesso scendiamo a centropagina e andiamo a vedere lo scontro all'interno della Confcommercio di Pescara. Danelli e Dardizzi e Ferri Corti per una nomina. Alta tensione in Confcommercio su una direttrice. Il Presidente è pronto a dimettersi. A centropagina la fotonotizia. Capodanno con le mura illuminate. All'Aquila si valorizza l'antica struttura per l'ultimo e il primo dell'anno. Andiamo a vedere adesso di spalla che cosa propone il giornale. Il personaggio Ginobile e il nonno premiati a Castilenti. Una festa per il tenore del volo. D'Alfonso e gli telefona e gli dice se è il nostro ambasciatore. Scendiamo nel taglio basso adesso a Lanciano. Quei 50 siano processati da Napoli in Frentania per pagare meno tagliandi su auto, motociclette e furgone. Per presunta truffa contro tre compagnie assicurative sono ben 50 gli imputati in maggioranza campani che per beneficiare dei saldi sulle polizze erano falsamente residenti da noi. Una truffa ben oliata. Sgominato un anno fa dalla polstrada di Lanciano, il PM Rosaria Vecchi ha ora chiuso l'inchiesta e ha chiesto al GIP il processo contro i 50, tra cui 5 residenti tra Lanciano ed Atessa. Andiamo adesso nel taglio alto della prima pagina del messaggero Abruzzo. Troviamo la cultura, arrivano i soldi per TSA e ISA, oggi la delibera all'emiciclo e poi Regione Bilancio parte la maratona, il Movimento 5 Stelle attacca, Lolli replica e ancora Pescara manette ai due piromani di Via Diamicis. Sono stati arrestati un romeno e un bielorusso, ritenuti gli autori del rogo davanti alla sede RAI di Pescara, proprio in Via Diamicis. Adesso cambiamo ancora una volta testata e andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Terca si al sicuro con il piano B, questo è il titolo di apertura. Gianluca Iacobini dice, con l'adesione al fondo volontario, il salvataggio della banca e al riparo dalla Unione Europea. E poi a centro pagina l'archio di scarica, Teramo, buste di spazzatura tra gli scavi romani a Ponte Messato. Andiamo anche a vedere sotto la fotonotizia, barricate sull'inceneritore abruzzese, grillini in allarme per le previsioni dello sblocca Italia. Sotto la testata Montori Alvomano, svaliggiato il centro turistico pronto al taglio del nastro. E poi ad Atri, strade disastrate, nebbia persistente e allerta. Incidenti di spalla, turismo in rivolta per la nuova tassa di soggiorno. Ci sono le prime retromarce, secondo la città. E poi, sempre per quanto riguarda la costa, Giulianova raccolta differenziata a quota 68% e ancora commercio, centri commerciali. La moratoria scade a dicembre. Nel taglio basso troviamo la cultura. A Venezia esposte le miniature dimenticate di Berardo da Teramo e poi il Teramo Calcio, calciomercato per risalire la china. Fermo ovviamente il campionato di Lega Pro. Adesso andiamo ad aprire la pagina dedicata al nazionale con le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Smog, l'appello dei sindaci. Questa è l'apertura dedicata all'inquinamento, primo giorno senza auto a Milano, 300 le multe, domani il vertice con galletti, fondi e regole, 10 richieste al governo del Rio, piano ecologico per i condomini. Ovviamente anche le condizioni climatiche stanno favorendo il persistere dello smog e che sta cominciando davvero a diventare un problema soprattutto nelle grandi città. E qui da noi anche a Pescara, come abbiamo letto precedentemente sul centro, ci saranno dal 7 le targhe alterne del capoluogo adriatico. Andiamo avanti con la lettura del giornale. Scendiamo a centro pagina. Movimento 5 Stelle, una nuova espulsione, verdetto via web su Fucsia. Il trentasettesimo caso non versa parte dello stipendio che, come vi ricordo, i parlamentari dei 5 Stelle sono tenuti a dare, insomma, riversare al movimento che poi ne fa, insomma, all'uso che ritiene opportuno finanziando anche dei progetti. Insomma, ci sono varie modalità per riutilizzare questi soldi. Insomma, la senatrice dice che è tutto falso e si difende, ma il verdetto è arrivato comunque via web. Scendiamo nel taglio basso, una notizia curiosa ed importante. La vita invisibile del grande esciumi. Due anni fa l'incidente sulla neve. In Francia il coma, la convalescenza, i progressi. Alcuni giorni fa ci sono state delle voci di una ripresa evidente di Schumacher. Alcuni avrebbero detto di averlo visto camminare. In realtà poi la sua manager ha smentito tutto dicendo che non era la verità e che Schumacher si trova ancora in riabilitazione. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Passiamo alla Repubblica. Smog. Nasce il fronte dei governatori. No a blocchi selvaggi. Ecco le regole. Città svuotate dallo stop alle auto. Oggi si replica da Milano a Bari un piano comune anticrisi. Scendiamo a centropagina. Renzi pronti a intervenire contro lo Stato islamico. In Libia vertice a Roma con il premier designato. In Iraq l'esercito in marcia verso Mosul. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Adesso passiamo alla stampa part time per gli over 60 per assumere. Parla il ministro Poletti. Stipendio al 65% ma pensione piena per i dipendenti privati. Qui mancano tre anni a ritiro. Il provvedimento è contenuto nella legge di stabilità. Torneremo ai livelli di occupazione pre-crisi dice il ministro ma dal 2016 alle donne serviranno 22 mesi di anzianità in più per andare a riposo. Scendiamo a centropagina con questa bella fotografia. Gianotti al CERN come in paradiso. La sfida della scienziata italiana. Nuove particelle dopo il bosone di Higgs. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali. Il sole 24 ore. Il quotidiano economico milanese. Lavoro. I nuovi bonus per le assunzioni 2016. Questa è l'apertura scelta dal giornale. Sconto sui contributi prorogato ma in misura ridotta. Da gennaio cambiano le agevolazioni all'impresa e per i contratti a tempo indeterminato. Poi una notizia che riguarda il governo degli Stati Uniti che è schierato contro l'industria europea. L'America avverte la UE. Non date alla Cina lo status di economia di mercato. Scendiamo adesso a centropagina con Popolare e Good Bank. Sul mercato 720 miliardi di asset. completati gli aumenti e superati i test BCE nel 2016 partono le fusioni per quanto riguarda le banche popolari. Insomma sarà un inizio di 2016 davvero importante per il sistema bancario italiano. Andiamo avanti. Il messaggero edizione nazionale. Smog sconti su bus e metro. Il governo prepara un fondo per garantire ai comuni tagli sui biglietti dei trasporti pubblici. A Roma ci sono le targhe alterne. A Milano e in altre città il blocco del traffico ma la situazione purtroppo aggiungiamo noi non migliora. A centropagina Renzi vede a Palazzo Chigi il premier libico. La Libia e l'Italia siamo pronti a un nuovo trattato di amicizia. E poi donne in pensione si cambia. Lavoreranno 22 mesi in più da gennaio per le dipendenti del privato. Scatta lo scalone. Per quanto riguarda le banche, Crac e Truria protesta dei risparmiatori. Rimborsi decisi in base al patrimonio dal CSM OK al PM che sta indagando su quanto accaduto per Banca Etruria. L'inchiesta può andare avanti. Nel taglio basso del giornale, una notizia che interessa molto, luce e gas, le bollette saranno più leggere. Così scrive Francesco Bisozzi. Andiamo adesso avanti con la lettura dei giornali e passiamo a libero spazio anche agli islamici. La Roma del giubileo, noi presepisi ai gay. Il prefetto Tronca ha cacciato da Piazza Navona le bancarelle con Gesure, Maggi e Dolci per i bimbi. Al loro posto stand della Mezzaluna Rossa e di associazioni omosex e pro rom. Questo dunque il titolo di apertura scelto da libero. Andiamo adesso al giornale. Ecco Balle. Ecco la verità sullo smog. Dicono che l'inquinamento è colpa del disboscamento ma in Italia non ci sono mai stati tanti alberi. Anche sull'aumento dei morti nel 2015 raccontano le solite bufale ambientaliste. Questa è la posizione del giornale. Andiamo ancora avanti. Il tempo. Tira una gran bruttaria. Questo è il titolo sulla fotografia. I dati shock dell'osservatorio epidemiologico. Per quanto riguarda il dossier smog a Roma, 1.400 decessi, 4 al giorno. Gravi rischi con le polveri sottili. Dunque una posizione diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo letto in precedenza sul giornale. E poi Anonymous. Video su un attacco in Italia. Lì si stradita dalla rete. Ecco le email. Sotto la testata del tempo. Prof ed esperti. I conti per la corte non tornano dall'università alla regione. Gli sprechi a spese nostre non finiscono mai. Andiamo adesso al mattino di Napoli. Smog a Napoli. Veleni record. Come vedete insomma il tema dello smog tocca un po' tutta l'Italia. Gli ultimi dati shock delle centraline mentre nella capitale in Lombardia scattano i divieti. Il comune attende polveri sottili tre volte oltre il limite. De Magistris a Roma e Milano. Dice è peggio insomma però. Ma il comune Mezzogaudio in questo caso non può funzionare. Il caso sospensione Severino. Ecco il rinvio di Luca resta in sella e il tribunale dice aspettiamo la consulta. E poi a centropagina la storia, la favola di Laura resuscitata dal Bataclan che è locale, ve lo ricordo, dove ci furono i maggiori morti negli attentati a Parigi del 13 novembre. La cantante uscita dal coma vuole sapere cosa è successo quella sera. Andiamo avanti ancora con la lettura dei giornali. Passiamo ad avvenire. Un colpo al Daesh. Il nome arabo dell'Isis presa a Ramadi. Gli iracheni puntano su Mosul. In Siria tregua per i feriti. Scomparso un religioso. Il fatto? Lo Stato islamico costretto ad arretrare dall'offensiva della coalizione. A Roma il nuovo premier libico dice legame forte con l'Italia. E poi domani il vertice. Galletti sostegno al trasporto pubblico. Milano va a piedi. Il governo accelera contro lo smog. Adesso vediamo l'unità. Selfie dall'Italia che batte la crisi. Racconto del paese che innova. Dieci autoscatti della nuova economia che crea lavoro. Emergenza smog nelle città. Milano ha spento i motori. Galletti dice. Ora misure strutturali. E poi a fianco alla testata dell'unità nel 2015 nato sotto il segno di Mattarella. Il protagonista è stato il non politico cantone. Nel 2016 sarà la riforma costituzionale. Cantone a capo dell'autorità anticorruzione. Adesso si sta occupando anche del caso delle banche salvate. Andiamo sul manifesto. Titolo sulla fotografia. Aria fritta. Ovviamente il riferimento è allo smog. Milano soffocata dall'inquinamento chiude al traffico ma solo dalle 10 alle 16. Autoferme anche oggi e domani. Una risposta virtuosa che però non risolve l'annoso problema dell'area avvelenata nella città. Pisapia, il sindaco di Milano, dice che servono risposte a livello nazionale e regionale. A Roma solo targhe alterne. Il governo batta un colpo. E poi per le banche. Etruria. La furia dei risparmiatori. Il CSM assolve il procuratore. Andiamo adesso avanti per vedere l'ultimo quotidiano nazionale. Il fatto quotidiano. Smog. Il governo si è scordato i test sulle auto che inquinano. Il riferimento come vedete anche dalla simpatica fotografia è al caso del Dieselgate che ha coinvolto la Volkswagen. Le solite bugie. Nulla di fatto dopo i tamburi di guerra sul caso Volkswagen. Adesso andiamo a vedere i quotidiani nazionali sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport. Le grandi si muovono. Prenotati sette colpi. La corsa allo scudetto si intreccia con le trattative. La miccia per i botti e l'avezzi conteso da Inter che punta anche a Caceres e Juventus. I bianconeri pure su Gundogan. Per la Fiorentina c'è Lisandro Lopez. Il Napoli vede Eriksen. Roma in pole per il Perotti e il Milan sogna Witzel. Insomma questo è il mercato che ci attende a gennaio. E poi attaccanti azzurri nel mirino delle genovesi e il Sharawee immobile. A volte i gol ritornano. Andiamo adesso al Corriere dello Sport. Inter l'avezzi l'incontro. Adò appuntamento con il Pocio. Si tratta per l'arrivo del Pocio sulla riva nerazzurra di Milano. Il club nerazzurro vuole prendere subito l'argentino che ha rotto con il Paris Saint Germain. Mancini come già in altri acquisti potrebbe risultare decisivo per strappare il sì al giocatore. E poi il Milan non si arrende. Un piano per Witzel. E ancora girandola di allenatori ecco come cambiano le panchine della Serie A. La Premier tenta Allegri. Spalletti verso il rientro. La grande incognita Conte sarà una vera rivoluzione. Andiamo adesso su tutto sport. Sberle e sberleffi. Anche sul mercato non c'è pace tra Juve ed Inter. Non solo la lotta Scudetto separa le rivali storiche. Adesso le due società si danno battaglia pure per acquistare i francesi di Arra e Rabiot. Poi Pogba-Barsa. Niente scherzi. Dunque ci sono voci su un possibile arrivo al Barça di Paul Pogba. Andiamo sotto la testata. Adesso Platini non ho rubato. Per la prima volta il presidente della UEFA racconta la sua verità sullo scandalo che lo ha travolto. Adesso possiamo aprire lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, insomma abbiamo letto sui giornali di questo smog che attanaglia un po' tutta la nostra penisola. Smog che io mi sono permesso di dire è favorito dalle condizioni meteorologiche. Tu sarai più preciso di me. Ti lascio la parola. Sì Alfredo. Purtroppo tutto ciò è dovuto ovviamente alla persistenza dell'alta pressione che favorisce non solo condizioni di tempo stabile con banchi di nebbia nelle penure e nelle valli ma di conseguenza l'area dei bassi strati tende a non essere ricambiata. Quindi di conseguenza si accumulano le sostanze inquinanti soprattutto nei principali centri urbani. E purtroppo non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore e nelle prossime 48 ore. Quindi la nostra penisola continuerà ad essere ancora interessata dall'alta pressione che però, e questa è una buona notizia, però inizierà a cedere soprattutto da Capodanno. Da Capodanno la situazione tenderà a cambiare perché con il cedimento dell'alta pressione inizieranno ad aggiungere dei sistemi nebulosi di origine atlantica che favoriranno dapprima degli annumolamenti, soprattutto nella seconda parte della giornata di Capodanno e poi successivamente una nuova perturbazione tra sabato e domenica dovrebbe favorire non solo un peggioramento del tempo ma assolutamente un miglioramento della qualità dell'aria perché ci sarà un rimescolamento delle masse d'aria nei bassi strati perché la perturbazione sarà preceduta dapprima da correnti meridionali e poi da venti di maestrale che comunque dovrebbero spazzare via non solo le nebbie ma anche le sostanze inquinanti che al momento continuano a persistere nei principali centri urbani della nostra penisola, in particolar modo al centro nord. Quindi al trello delle prossime ore la nostra regione continuerà ad essere interessata da banchi di nebbia soprattutto nelle valli dell'Aquilano e in particolar modo lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa mentre condizioni di bel tempo, quindi ceno sereno o poco nuvoloso si prevedono invece sulle zone alto collinari e montuose dove comunque splenderà il sole e le temperature saranno ancora al di sopra delle medie stagionali quindi una situazione questa prosegue l'anomalia ma ripeto poi dai primi giorni del nuovo anno assisteremo finalmente a un cambio di circolazione probabilmente nei giorni a seguire saranno ancora di scena le perturbazioni atlantiche che dovrebbero riportare le precipitazioni un po' su tutto il territorio regionale anche questa è una buona notizia, non che ci auguriamo il mal tempo ma certo la persistenza dell'alta pressione sta creando davvero molti problemi sia a livello di siccità sia a livello di assenza di neve sulle principali località scistiche del nord Italia noi siamo stati più fortunati perché a Bianlu siamo l'unica regione ad avere la neve naturale grazie alla perturbazione che ci ha interessato a fine novembre ma comunque pariranno anche le nebbie che comunque rappresentano un insidio per la circolazione stradale e autostradale quindi ancora un po' di pazienza, poi dal nuovo anno cambierà la circolazione ma c'è da specificare che comunque non si prevedono almeno per il momento ondate di freddo sulla nostra penicola grazie Giovanni come sempre è chiarissimo nel spiegarci cosa accade sulle nostre teste prima di salutare Giovanni vi ricordo i riferimenti per essere sempre aggiornati sul Meteo il sito di Abruzzo Meteo messo in onda, eccolo qui, dalla regia di Gianni D'Areo abruzzometeo.org ovviamente qui troverete tutti gli aggiornamenti di cui necessitate ma poi ci sono, lo sapete ormai benissimo le due pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo che vediamo in questo istante poi la pagina Facebook personale di Giovanni De Palma ovviamente il social network vi permette anche di interagire con Giovanni che io ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina ti do appuntamento a domani per un nuovo aggiornamento sulle condizioni meteo all'interno di Mattino 6 intanto ti auguro una buona giornata e buon lavoro grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alla rassegna stampa regionale e iniziamo dalla pagina Abruzzo del centro parla Iacobini, la D di Tercas Caripe noi difendiamo il risparmio, abbiamo i numeri per farlo rimodulata l'operazione di salvataggio per escludere l'accusa di aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea ritorno alla normalità erogati i crediti per 300 milioni alle piccole e medie imprese abruzzesi poi c'è l'intervista del direttore Tedeschini proprio all'amministratore delegato delle due banche abruzzesi e poi il fallimento delle ex banche, pool di avvocati Kodakons per i clienti truffati il Kodakons Abruzzo ha dato vita ad un pool di avvocati per difendere i clienti truffati dalle banche lo rende noto il vice coordinatore del Kodakons, l'avvocato Vittorio Ruggeri relativamente alle ex carichieti Banche Truria, Banca Marche e Bancari Ferrara evidenziando che del gruppo farà parte anche Luciano Fanti avvocato di Roma specializzato in diritto bancario che per conto del Kodakons ha già patrocinato centinaia di cause contro le banche in tutta Italia gli interessati possono utilizzare gli indirizzi truffati carichieti chiocciolagmail.com o truffatibanche chiocciolagmail.com e poi ci sono ovviamente anche gli altri riferimenti intanto Adus BFF e Feder Consumatori annunciano che la mobilitazione continuerà con altre iniziative previste nelle prossime settimane attraverso la richiesta di incontro a tutti i gruppi parlamentari un sit-in davanti alla Consob che è l'autorità che vigila sulle banche e poi insieme a Banca Italia e poi testimonianze personali all'antitrust annunciata poi una manifestazione di massa a Roma a gennaio probabilmente davanti a Palazzo Chigi Andiamo alle altre notizie che ci sono sulla pagina Abruzzo del centro lo sfogo di Lolli, 100 posti in ballo Tales inaccettabile, si aggiudica un megabando ma vuole chiudere dunque bolla come inaccettabile folle il vicepresidente della regione Giovanni Lolli la possibile chiusura della Tales di Chieti che si è aggiudicata un megabando e dunque vedremo come andrà a finire questa ennesima avvertenza che riguarda la nostra regione poi i parlamentari sulla legge di stabilità da Bussi a Umbrina e la Sanità il PD dice ci sono benefici per tutto l'Abruzzo andiamo ad ascoltare il servizio di Paolo Renzetti Legge di stabilità ha indubbi vantaggi per l'Abruzzo il PD regionale vuole ovviamente far suo anche questo merito con tutti i provvedimenti presi in questa legge di stabilità finalmente possiamo combattere seriamente la povertà possiamo premiare il lavoro possiamo seriamente premiare la cultura, la sicurezza e finalmente ci sono meno tasse per italiani a cominciare dalla tassa sulla casa che va via e anche sui terreni agricoli io credo che questo sia un successo da rivendicare per il Partito Democratico successi che premiano anche la nostra regione grazie al lavoro svolto dai nostri deputati il gruppo parlamentare del PD degli abruzzesi che ha portato avanti tantissimi provvedimenti a favore della nostra regione a cominciare dalla svolta storica per quanto riguarda la svolta in materia petrolifera che ha visto allontanare il progetto di Umbrina Mare e dei progetti che si possono immaginare per la petrolizzazione del mare Adriatico Quali sono gli altri successi che voi rivendicate in chiave abruzzese? Ne abbiamo fatti numerosi io penso innanzitutto a quello che sicuramente premia di più anche l'istituzione regionale con la possibilità di dilazionare il debito dell'Abruzzo da 7 a 10 anni e questo ci permetterà di avere conti a posto e ci permetterà di fare politiche di spesa in Abruzzo che prima non potevamo immaginare di fare e questo vuol dire stare dalla parte dei cittadini e mettere a servizio delle politiche che potranno continuare l'opera di risanamento della politica abruzzese ma allo stesso tempo di redistribuzione della ricchezza della nostra regione E come ogni fine anno si apre la battaglia in Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio il Movimento 5 Stelle all'attacco di D'Alfonso e dice D'Alfonso Flop i dati sono chiari Lolli invece risponde no sono vecchi botte risposta tra la consigliera Marcozzi e il vice governatore regione più povera e tassata secondo i 5 Stelle secondo invece Lolli si è invertita la rotta andiamo ad ascoltare proprio i rilievi dei 5 Stelle che ieri hanno tenuto una conferenza stampa all'Aquila Giorgio Alessandri Una sorta di controconferenza stampa di fine anno per tracciare un bilancio delle attività della maggioranza vista dall'altro lato della barricata snocciolando i dati micro e macroeconomici forniti dall'Istat e dagli altri istituti di ricerca il Movimento 5 Stelle va giù duro nei confronti della maggioranza guidata da Luciano D'Alfonso parlando di calo dell'occupazione e della ricchezza aumento dei debiti e diminuzione dei servizi ai cittadini come nella sanità il tutto mentre all'emiciclo è in partenza la maratona di fine anno per l'approvazione del bilancio e anche in questo caso i pentastellati annunciano un'opposizione durissima da quanto riportato dai revisori dei conti permangono le criticità che erano state già espresse l'anno scorso e per le quali la Corte dei Conti aveva quasi commissariato l'Abruzzo di conseguenza siamo in una situazione in cui il bilancio è mero atto formale e il Consiglio è stato peraltro svuotato completamente del suo ruolo per cui un'aggiunta che il bilancio lo fa sostanzialmente da sola e lo fa anche male è chiaro che in queste condizioni noi ci troviamo a non poter capire quale sarà il futuro dell'Abruzzo un futuro che se dobbiamo stare a quelli che sono i dati macroeconomici di oggi è sicuramente estremamente nero tutti i dati macroeconomici sono in calo abbiamo riduzione dell'occupazione riduzione delle imprese riduzione del credito alle imprese danni sulla sanità sia per quanto riguarda i punti nascite l'organizzazione sanitaria la compartecipazione tutte le categorie svantaggiate vengono comunque penalizzate per cui noi ci troviamo a una contrarietà completa per quanto riguarda l'organizzazione del bilancio della Regione e nell'impossibilità di capire anche perché non c'è stato ancora garantito l'accesso al sistema informativo contabile che cosa sarà dell'organizzazione finanziaria dell'Abruzzo Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Messaggero Consiglio regionale bilancio seduta fiume e ghigliottina Andiamo a leggere Sull'ostruzionismo e le sedute fiume della maratona di fine anno per approvare bilancio stabilità e documento di economia e finanza scenderà la ghigliottina la legge sui provvedimenti d'urgenza esordirà probabilmente già oggi quando si aprirà la discussione per la chiusura dei conti 2015 non sarà una passeggiata perché se è vero che il presidente della commissione bilancio Maurizio Di Nicola ha contingentato i tempi chiudendo ieri alle 23 la discussione altrettanto vero è che la legge ghigliottina per evitare l'ostruzionismo ha previsto la possibilità su economia e sanità di presentare comunque 5 emendamenti per consigliere per ogni legge in discussione a conti fatti circa 200 emendamenti che difficilmente potranno essere smaltiti in un giorno entro domani tuttavia la maggioranza dovrebbe farcela ma le opposizioni denunciano come non sia stato possibile prendere visione dei singoli capitoli di spesa intanto Forza Italia chiede uno stop ai nuovi centri commerciali attraverso i consiglieri Sospiri e Febbo che hanno presentato un emendamento alla legge di stabilità che oggi sarà discursa in aula l'obiettivo è impedire nuove autorizzazioni per grandi superfici di vendita almeno fino al 20 gennaio del 2018 Scendiamo nel taglio basso del giornale e andiamo a vedere per quanto riguarda i trasporti la tua nuovi automezzi a metano e circa 30 assunzioni in arrivo per il 2016 vediamo il servizio Presidente D'Amico questa mattina in conferenza stampa in regione a Pescara avete annunciato nuovi 30 assunti alla tua abbiamo firmato il contratto con i 30 neoassunti che si aggiungono ai 30 neoassunti di alcuni mesi fa e ormai l'insanamento dei conti direi delle tre società e la ristrutturazione organizzativa ci consente di guardare al futuro in una prospettiva di sviluppo e in questa prospettiva l'immissione di 30 nuovi conducenti sicuramente ci dà una mano significativa per rilanciare il servizio abbiamo poi presentato anche i nuovi autobus extraurbani a metano sono i primi in Europa mi fa piacere dirlo ringraziando anche coloro che prima di noi hanno voluto fortemente questo tipo di innovazione è un'innovazione che ci consente di rispettare l'ambiente è un'innovazione che ci consente anche di migliorare ulteriormente i conti della società perché la tecnologia di trazione a metano oltre che provocare una minore emissione di agenti inquinanti in atmosfera consente anche un risparmio notevole dei costi di trazione diciamo che tutte e due queste iniziative vanno nella direzione di rendere il 2016 un anno di sviluppo dell'azienda ora torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere la pagina di Pescara che si apre con la cronaca piromani per bullismo gli autori del rogo in centro l'incendio di nove mezzi in via di Amicis a pochi passi dalla sede Rai di Pescara e dell'Abruzzo i due giovani arrestati dai carabinieri erano già finiti nei guai per episodi violenti riconosciuti grazie ad una telecamera privata di videosorveglianza oggi saranno interrogati in carcere andiamo a vedere anche qui il servizio sono due giovani presunti autori dell'incendio che sabato sera distrutto in via di Amicis nei pressi della sede Rai Abruzzo alcune auto e moto e creato danni anche ad altri mezzi danneggiando le ampioni della pubblica illuminazione in manette in flagranza del reato di incendio doloso sono finiti Viorel Serban 19enne romeno residente a Pescara ed Edgar Flacco 21 anni di origine bielorusse e residente a Giuliano Teatino in provincia di Chieti e questa conoscenza diretta per progressi indagini soprattutto quella per il knock out game commesse quest'estate ci ha permesso di dare un nome e un cognome velocemente ai due quello che possiamo escludere con certezza è che non è stato un gesto diciamo di terrorismo a valore simbolico e soprattutto l'altra preoccupazione non era una questione legata al fenomeno del racket o estorsivo Nella conferenza di oggi lei ha approfittato anche per parlare di un'altra vicenda che non ha nulla a che fare con questa che riguarda quella di falsi carabinieri che telefonano in case di cittadini sì purtroppo capitano spesso che ci sono dei truffatori che simulandosi operai dell'Enel appartenenti alle forze di polizia carabinieri magari vanno nelle case raccontano di fantomatici incidenti al telefono e poi si recano nelle abitazioni e magari si impossessano di oro o denaro il vero danno non è tanto quello economico ma è quello psicologico che possono provocare quindi invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione e in caso di dubbi contattare il 112 a cui rispondono i carabinieri quelli veri passiamo passiamo all'emergenza smog riapertura delle scuole con le targhe alterne a Pescara si comincia il 7 di gennaio allo studio più corse dei bus e biglietti più convenienti andiamo avanti sempre per quanto riguarda questa emergenza smog le opinioni dei pescaresi tariffe meno care per incentivare l'uso degli autobus e sulla Pescara penne due mezzi a metano come abbiamo visto per quanto riguarda la tua in precedenza nel servizio andiamo adesso avanti sulla pagina di Pescara Confcommercio nel caos Danelli il presidente pronto a dare le dimissioni rottura tra il nuovo presidente e lo storico e lo storico leader Ezio Ardizzi dobbiamo tagliare altro che assumere un direttore andiamo andiamo avanti ancora la pagina di Francavilla e dell'area metropolitana gran raduno di fedeli al santuario per l'apertura della Porta Santa a Manoppello il primo gennaio nella Basilica del Sacro Velo la liturgia sarà celebrata da padre Cucinelli previsto l'arrivo di migliaia di pellegrini a rito con corteo solenne e coro diretto dal maestro Costantini e poi salvato dopo una notte passata nella grotta escursionista pescarese ritrovato vicino ad un bivacco si era avventurato in una escursione sulla Maiella andiamo adesso a San Giovanni Tiatino botti vietati sanzioni fino a 500 euro da parte del comune in realtà sono tantissimi comuni che hanno diciamo così imposto uno stop ai botti vietati per quanto riguarda la fine dell'anno e poi a Francavilla San Franco visita al presepe che è nella nella cattedrale al Paese Alto fino al 10 di gennaio andiamo adesso alla pagina di Montesilvano avviso pubblico stanziati 40 mila euro menze scolastiche aiuti per le famiglie povere decisione della giunta ecco la nuova misura di sostegno a favore di chi non può più pagare i pasti ai propri figli dopo gli aumenti tarifari dell'estate altro provvedimento che riguarda però il commercio stop al commercio ambulante vietata la vendita sulle spiagge l'amministrazione comunale ha deciso di mettere un argine al fenomeno dello smercio di prodotti spesso contraffatti sul litorale dalla prossima estate si volterà pagina andiamo adesso avanti con la lettura del giornale e scendiamo nel taglio basso capodanno di risate fuori dal comune cabaret musica e tante sorprese per la festa di fine anno in piazza Diaz con le gag del comico Vincenzo Olivieri ancora avanti con il giornale restiamo sempre alla pagina di Montesilvano e dell'area metropolitana ecco come rinascerà la nuova scuola a Ligheria spoltore primo report sulle opere avviate dall'associazione di imprese Chiodi Gala che si chiuderanno a settembre nel taglio alto tenta di uccidersi ma viene salvato dai carabinieri a Montesilvano e nel taglio basso sempre a Montesilvano casa aperta agli artisti sul colle chiusa chiusa una rassegna nello spazio della fondazione Zimei in via Aspromonte Adesso andiamo ancora avanti con il giornale e andiamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara Filippi farmaceutica avvio produttivo con 20 dipendenti a bussi muove i primi passi il piano di reindustrializzazione del polo chimico in attesa di un accordo di programma a Salle il sindaco Fonso fusione di comuni unica salvezza e poi a centropagina Penne corona il sogno di Babacar giovane del Gambia ospite dell'Apis inserito nel roster della squadra di basket sempre a Penne città aperta critica ad Alfonso occasione mancata sul DUP nel taglio basso sempre a Penne concerto di Natale alla Ciulli Paratore e a Montebello di Bertona il sindaco porta i doni all'asilo andiamo adesso sul messaggero per vedere insieme la pagina di Chieti acqua evitata in extremis la stangata sulle bollette nell'ultimo consiglio comunale dell'anno approvata la delibera per affidare la rete idrica all'ente regionale destra e sinistra dunque hanno trovato una soluzione e poi le nostre tasche due quando la politica costa meno risparmiati oltre 50 mila euro diminuiscono i costi di consigli e commissioni nell'ultimo semestre 2015 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la disavventura rimane bloccato a 1600 metri arriva l'elicottero a salvarlo abbiamo letto prima anche sul centro poi la storia in pieno centro spuntano i ladri dei panni stesi al sole andiamo alla pagina di lanciano vasto ortona truffe alle assicurazioni chiesto il processo per 50 persone erano campani ma fingevano di essere residenti in frentania per pagare di meno le polizze su auto furgoni e motociclette il pm vecchi chiude l'inchiesta numerosi centri interessati soprattutto a Tessa e Villa Santa Maria e poi vasto consorsi bonifica sud Mastrangelo è stato nominato commissario scendiamo nel taglio basso centrodestra primaria il 13 marzo per designare il sindaco il candidato sindaco si voterà a vasto dalle 8 alle 22 nel centro sportivo dei salesiani intanto l'audazzi scende in campo con il nuovo faro una lista alternativa agli schieramenti e poi a Lanciano Poggi per i Negri Sud si può ancora fare qualcosa dopo la chiusura del centro di ricerche adesso passiamo alla pagina dell'Aquila restando sempre al messaggero e andiamo dunque a vedere insieme qualche notizia dal capoluogo di regione a Capodanno con le mura illuminate per fine anno assaggio del progetto di valorizzazione dell'antica cinta urbica predisposto dalla sovrintendenza di Vincenzo l'idea è realizzare una linea quasi ininterrotta nello skyline della città esaltando i vecchi accessi e i passaggi andiamo andiamo alla prossima pagina l'Aquila l'Aquila TSA e Isa arrivano i soldi del fondo la delibera sarà portata oggi in consiglio regionale allo stabile almeno il 40% del FUS circa 220 mila euro stesso discorso per la sinfonica che percepirà mezzo milione resta fuori la CS che avrà solo il contributo della danza e poi in comune nel consiglio approvati i debiti fuori bilancio andiamo adesso alla pagina di Avezzano Sulmona no alla centrale SDAM i comitati cittadini occupano il comune dopo uno scontro verbale dentro l'ufficio del sindaco gli ambientalisti a Sulmona sono entrati a Palazzo San Francesco sono disposti a vegliare contrari a tutte le soluzioni prospettate da Alfonso nel taglio basso rubano un SUV a Massadalbe seminano il panico in città urtate alcune automobili gravi danni ad Avezzano la polizia arresta un marrocchino ed ora sulle tracce di altri tre andiamo adesso sulla città quotidiano della provincia di Teramo per vedere anche le notizie da Teramo e provincia economia banca terca si è al sicuro con il piano B Gianluca Iacobini dice liquidità patrimonio e piano industriale continuano a fare banca sul territorio per imprese e famiglie così l'amministratore delegato di Tercas e Caripe con l'adesione del 98% del sistema bancario italiano al nuovo fondo volontario il salvataggio di Banca Popolare di Bari viene messo a riparo dall'Europa che aveva sollevato obiezioni per quanto riguarda gli aiuti di Stato andiamo andiamo nel taglio basso spazzatura dai grillini non all'inceneritore dei rifiuti abruzzesi l'abruzzo inserito tra le otto regioni che con lo sblocco Italia avranno un nuovo impianto andiamo avanti sempre a Teramo terminati i lavori alla stazione di Piano Daccio installata la pensilina e l'illuminazione mancano solo i colori per la riconsegna del cantiere confese centi la moratoria sui nuovi centri commerciali sta per scadere abbiamo visto anche la proposta dei consiglieri di Forza Italia per diciamo allungare questa moratoria fino al 2018 andiamo avanti la discarica archeologica di Ponte Messato zona in completo abbandono con le buste della spazzatura come vedete dalle fotografie a pochi metri dal Tempio ellenistico romano ancora avanti sempre a Teramo non eravamo quattro mici al bar pomante abbiamo discusso delle emozioni sulla teoria gender niente vernecchie così si tratta la politica teramana andiamo ancora avanti in provincia svaliggiato il centro turistico di Montorio la struttura era pronta per l'inaugurazione portati via 60 mila euro tra materiali audio video e computer lo sfogo del sindaco sono deluse ed amareggiato perché si tratta di un colpo che danneggia tutti i cittadini montoriesi dopo un mese di duro lavoro ci ritroviamo solo con un pugno di mosche in mano nel centro pagina la vallata del fino riparte premiando Gianluca Ginobble riconoscimenti anche per quattro giornalisti ma soprattutto per il componente del trio il volo andiamo ancora avanti con le notizie dalla provincia furto con spaccata alla stazione di servizio portate via due slot machine a Tortorezo presa di mira una palazzina di Nereto dove sono stati svaliggiati due appartamenti a Sant'Egidio il bilancio del sindaco Angelini il nuovo anno porterà un nuovo piano regolatore ancora avanti con qualche altra notizia dalla provincia questa è la pagina di Giulianova a Mosciano la raccolta differenziata quota 68% a Giulianova la Ecotedi realizza uno spot per sensibilizzare i cittadini di Giulianova e poi Mastro Mauro sulla tassa di soggiorno non è stato ancora deciso nulla sono tante le polemiche per l'istituzione ventilata della tassa di soggiorno in alcuni comuni della costa terramana polemiche sollevate soprattutto dagli operatori del settore e gli albergatori che chiedono insomma di rinviare il provvedimento per avere più ossigelon per i loro affari soprattutto perché criticano la tempistica in quanto molte prenotazioni sono già state fatte per la stagione estiva adesso passiamo allo sport e andiamo anzi torniamo sul quotidiano il centro per aprire la pagina dedicata all'Abruzzo Sport e andiamo a vedere ovviamente il calcio di Serie B in primo piano e parliamo del Pescara le manovre di mercato Pescara bel colpo Akmaidad è un talento il centrocampista del Brescia finisce in Biancazzurro con un prestito della Roma i fratelli Andrea e i Voiaconi un affare benali lo aiuterà a inserirsi nel gruppo dunque queste le notizie che riguardano il Delfino sempre per quanto riguarda il Delfino la Juve su Mandragora ma resta fino a giugno accordo raggiunto tra Bianconeri e Genoa il Delfino in pressing per verde Torreira può partire andiamo alla pagina successiva si celebra l'anniversario dello stadio Adriatico Cornacchia che fa 60 anni ha accolto sei volte l'Italia lo stadio costato 500 milioni di lire fu inaugurato il 29 dicembre del 1955 ospitò anche alcune gare delle Olimpiadi di Roma del 1960 nel 1977 nella prima promozione del Pescara in Serie A fu oggetto di ampliamento di curve e tribune poi la ristrutturazione più recente in occasione dei giochi del Mediterraneo Mediterraneo andiamo adesso alla Virtus Lanciano ora si teme la fuga da Marilungo a Puccino area di trasferimenti il 2-1 sul Livorno non placa le voci sulla cessione della società la rosa va sfoltita ma per salvarsi urgono acquisti di qualità e poi certezza Boldor vedrete ci salveremo il difensore romeno nuovo beniamino dei tifosi il massimo daremo il massimo con questa maglia dice per quanto riguarda la Lega Pro Cenciarelli Altobello pronti a partire in casa Teramo prima di acquistare bisogna parlare di calciatori in uscita dice la società sempre sempre restando alla Lega Pro sponda l'Aquila e Rosso Blu insistono per Pesoli in difesa si punta su Avogadri in Serie D Amiternina presi Mucciarelli e Santilli andiamo ancora avanti calcio le abruzzesi nel 2015 Avezzano Regina d'Abruzzo la maglia nera invece va a Lanciano record personale al tecnico del Pescara Massimodo 49 punti in 27 gari dunque questa è un po' la sintesi del 2015 delle squadre abruzzesi andiamo ancora avanti adesso cambiamo discipline calcio a 5 di Serie A il Pescara cerca il riscatto con il Corigliano e poi per quanto riguarda il basket Ferraro non dovevo giocare ma è andata benissimo in Serie A 2 il capitano del Roseto i 6 punti e un rimbalzo in pochi minuti ora pensiamo al Trieste contro la mia squadra voglio esserci da subito dunque così Ferraro poi la Proger torna alla fiducia di Cosmo sul mercato per il sogno mordente scendiamo nel taglio basso per parlare del volley di Serie A2 la Seco impavida ora gioca di testa il centrale ortonese le sconfitte erano solo un problema mentale non abbiamo più paura così dice Simoni noi ci possiamo fermare qui per quanto riguarda la nostra rassegna stampa ovviamente mattino 6 tornerà domani puntuale alle ore 7 la nostra informazione invece per quanto riguarda oggi è alle 14 e alle 19 con il TG6 grazie per averci seguito buona giornata grazie per la visione Grazie a tutti.